Vuoi vendere un immobile ricevuto in eredità? Non tutti sanno che ci sono 4 passi aggiuntivi rispetto a una normale compravendita. Conoscere questi passaggi è cruciale per evitare complicazioni legali e finanziarie. Passo 1, presentare la dichiarazione di successione alla Agenzia delle Entrate. Questo è un documento che notifica il trasferimento agli eredi e serve per calcolare la tassa che ogni erede deve pagare. Passo 2, pagare questa tassa di successione che varia dal 4 all'8% sul valore catastale in base al grado di parentela. Passo 3, entro 30 giorni dalla dichiarazione di successione devi aggiornare la proprietà al catastro. In questo caso verrà richiesto il pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale, quella ipotecaria del 2% e quella catastale dell'1%. Quarto e ultimo passaggio è l'accettazione dell'eredità. Puoi farla in maniera espressa con un atto notarile in cui i costi variano dai 1.000 ai 2.000 euro o tacita contestualmente all'atto di compravendita. Attenzione però perché in ambo i casi va fatta la trascrizione dell'accettazione dell'eredità che ha un costo che parte dare ai 500 euro. È importante svolgere questi passi in modo corretto per evitare complicazioni e non vendere l'immobile o avere delle spese inaspettate. Hai altre domande su come vendere a comprare casa? Scrivi pure nei commenti.